Ciao a tutti e ben tornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oh, allora oggi parliamo un attimino, vediamo quali sono i pensionati che sono esentati dal pagamento del ticket sanitario. Diciamo subito che i pensionati in generale sono tutte le persone che hanno più di 65 anni, ok? E hanno la possibilità di accedere a diverse esenzioni, quali per esempio quelle dei trasporti, biglietti del museo, dei cinema e non solo, anche i ticket sanitari, visto che la salute dopo un po', dopo una certa età inizia ad andarsene a schifio. Sappiamo molto bene che ultimamente i pensionati che prendono delle pensioni basse, soprattutto quelle che non arrivano neanche a 1000 euro al mese, avevano detto che le aumentavano, le aumentavano, le aumentavano, poi alla fine hanno fatto un aumento di 3 euro. Che cavolo di aumento è? Lo sanno solo loro. Comunque sa di fatto che ormai non riescono più nemmeno a far la spesa, perché far la spesa è diventato allucinante, dei prezzi folli. Il caro vita è andato a colpito tutti, ma soprattutto i pensionati che non arrivano neanche a 500-600 euro al mese, figurati un po' come riescono a far la spesa. Quindi per loro è veramente molto molto difficile. Non dico a vivere, ma nemmeno a sopravvivere. Anzi, apre una parentesi, dovete sapere che sul sito internet dell'Istat c'è una sezione in cui è possibile sapere a quanto ammonta la povertà assoluta ogni mese suddivisa per regioni. Quindi se voi cercate povertà assoluta, Istat, povertà in Italia, non so, butto lì, 2024, Istat, allora avete la possibilità di inserire quante persone siete all'interno del nucleo familiare, se ci sono dei minori o che ne so, non chiedono redditi e vi dicono in base, ah, poi vi chiedono se è una grande città, se è una piccola città, se è una media città, ecco, queste tre cosine, e poi vi dicono in base a dove vivete, a quanto ammonta ogni mese, quanto una persona, per esempio se lo fate su una persona, vi dice a quanto ogni mese una persona dovrebbe avere per stare al di sopra della soglia di povertà. E vi assicuro che vi si aprirà un mondo, ok? Quindi io consiglio di andarci a fare un giro e vedete, guardate, ne vedrete delle belle. Ma, chiusa parentesi, torniamo al nostro discorso. Cosa succede allora per il pagamento del ticket? Allora, dice, allora lo Stato cosa fa proprio per loro e per altre categorie di pensionati ha dato la possibilità di avere l'esenzione sul pagamento del ticket, almeno quello, soprattutto se si supera una certa età e si ha un reddito annuale molto basso. Vi dico già che i ticket sanitari possono variare da regione a regione, ok? Non sono tutti uguali, soprattutto quando si tratta di patologie diverse ed oltretutto in alcuni casi l'esenzione parte persino automaticamente senza farne richiesta. Però, su questo punto vi invito ad informarvi alla vostra ASL di appartenenza, ok? Perché lì c'è veramente da informarsi. Diciamo che in linea generale ci sarebbe la possibilità di avere l'esenzione del ticket alle persone con più di 65 anni, quindi valutate per reddito inferiore a 36.160 euro di spicci, ok? E anche ai minori di 6 anni. Ma, adesso vediamo un attimino le categorie che hanno diritto all'esenzione, in parte, eh? Quindi sono tutti cittadini che hanno un'età superiore a 65 anni. Poi ci sono i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiare a carico. I titolari di pensione è minima. Mentre invece le prestazioni dove non è previsto il pagamento del ticket sono in linea generale gli esami di diagnostica per la diagnosi precoce o la prevenzione collettiva. Poi, attenzione, io non sono medico, quindi vi sto dando delle informazioni che riguardano l'Inps. Poi, per quanto riguarda le patologie o cose varie, dovete per forza rivolgerti a un medico perché sono loro che fanno il loro lavoro e quindi loro sanno dirvi cos'è o cosa non è, ok? Poi abbiamo gli esami per la tutela della salute collettiva o obbligatorie, le prestazioni del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, i trattamenti durante un ricovero ospedaliero e le protesi e gli altri ausili tecnologici per le persone con disabilità, ok? Quindi queste qua, diciamo, sono in linea generale, sono le categorie. Una cosa vi dico perché, insomma, da quello che mi ha detto anche il medico, dove vado io, mi dice, loro sanno dirvi anche più o meno quali sono esenti, quale no, chi ne ha diritto, chi non ne ha diritto, insomma, Quindi, alle volte io consiglio di rivolgersi al proprio medico e se il medico magari non è tanto competente per quanto riguarda questa, diciamo, parte burocratica, fiscale, quello che sia, rivolgetevi all'ASL. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Parliamo di arte sociale perché la domanda per la verifica dei requisiti è da fare entro il 30 di novembre. Quindi, segnatevi sul calendario la data che vi ho appena detto, il 30 di novembre 2024, ovviamente, che poi non so quando guarderete questo video, scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale. Quindi, anticipo pensionistico. L'indenità, questa indennità aspetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive dell'assesa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, che si ritrovano, si ritrovano ovviamente, in determinate condizioni lavorative, personali e familiari. Per ricevere l'indennità è necessario che tutti i soggetti in possesso delle condizioni che sono indicate dalla legge, abbiano al momento della domanda di accesso i seguenti requisiti, e diciamo sono tre, in base a quello che l'Inps ci dice. Allora, almeno 63 anni e 5 mesi di età, almeno 30 anni di anzianità contributiva. Poi, vabbè, c'è tutto il discorso dei lavoratori che svolgono attività gravose per l'anzianità e bla bla bla. E terzo requisito, non essere titolari di alcuna pensione diretta. Ultima cosa, poi non entro troppo nel merito, se no non ne usciamo più fuori, l'accesso a questo beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato che deve essere svolta in Italia o all'estero. Poi, visto che siamo arrivati a quasi 7-8 minuti di video, c'era un altro argomento che ovviamente volevo parlarvi, ma a questo punto ve lo metto in un prossimo video perché è un po' più lungo e quindi aggiungo un argomento che non c'entrava niente, ma lo aggiungo un attimino così. Allora, attenzione, perché l'Uni Emens, l'Inps ci dice c'è la mancata trasmissione delle denunce mensili. Allora, i datori di lavoro che sono sostituti di imposta devono trasmettere mensilmente all'Inps i dati retributivi e contributivi dei propri dipendenti tramite il flusso Unie. Emens. Parentesi, anche qua, io non sono consulente del lavoro, non mi occupo di buste paga, vi sto dicendo quello che ovviamente dice l'Inps, ok? Quindi, se volete maggiori informazioni per quanto riguarda le vostre buste paga, dovete rivolgervi o al vostro datore di lavoro, per quanto riguarda la vostra pensione, all'Inps, o a un consulente fiscale, o a un consulente del lavoro, CAF, chi che sia, ok? Ok. Quindi abbiamo detto che i datori di lavoro sostituti di imposta devono trasmettere mensilmente questi dati con l'Uni Emens. e quindi gli enti e le amministrazioni pubbliche se alla periodica verifica delle denunce mensili trasmette, risultano inadempienti, cosa succede? Che devono inviare le denunce mancanti entro 30 giorni dalla data di recessione della comunicazione e comunicare la sospensione o la cessazione dell'obbligo tramite un servizio che si chiama Iscrizione e Variazione della Gestione Pubblica. Ok? Quindi con l'Uni Emens chiudiamo qui. Prima di concludere definitivamente il video vi ricordo la sezione abbonamenti del mio canale di YouTube la trovate o qui sotto a questo video sotto nei commenti oppure direttamente nella home page del mio canale. Andate nella pagina principale sotto il mio nome c'è un collegamento voi cliccate su quel collegamento lì e da lì potete accedere all'abbonamento al mio canale di YouTube. Mi raccomando perché è una cosa molto utile per voi perché vi dà accesso a dei video riservati vi dà la priorità dei commenti in più con l'abbonamento VIP avete anche 30 minuti di sessione telefonica con me al quale si può parlare discutere vedere insomma capire aggiornarsi e quant'altro quindi la trovo una cosa molto molto utile e vantaggiosa soprattutto per voi quindi andate nella pagina principale del mio canale e guardate ah tra l'altro da lì da quel menu se voi cliccate come vi ho detto prima in quel menu potete entrare anche nella super chat tra le varie cose quindi oltre ad altre informazioni diciamo che con questo è davvero tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube a presto ciao